e benvenuti ragazzi io sono c10 e oggi vedo il prossimo episodio di fortnite ok ragazzi benvenuti su questo titolo dopo aver fatto voi l'ultima volta coppa galaxi 3 ottiene i costume cari galassia evo coppa galaxi 3 ottiene i costume cari galassia evoluta e alto su fortnite oggi vi leggo salve al mondo no obbligo due news salve al mondo no come sempre perché non tutti ce l'hanno quindi questa è una news prima di oggi aggiornamento verso il 21.30 di fortnite creativo 18.7.22 da il team di fortnite ragionamento verso il 21.30 introduce il nuovo dispositivo indicatore giocatore il fucile pesante il fucile pesante prime della battaglia reale nuove gallerie tra cui la raccolta fordata da delta la galleria cascata e la galleria oggetto albero coccoloso aggiunge inoltre centenari di nuove icone utilizzabili con alcuni dispositivi compresi encomi tracciatori segnalatori e implementa miglioramenti identifacenti e creazione di bug e molto altro ancora modifiche centro per chi se lo fosse perso la giornalmente invenzione 21.20 hai prodotto il nuovo layout del centro il cui scopo è fornirti un luogo dove mettere in mostra le abilità tecniche della community per avviare a questo punto abbiamo rimosso i portali di matchmaking e rifinitura di evidenza al loro posto fino ad otto finiture d'oro sarà prendibile per il gruppo creatore nel centro una per ogni memore del gruppo c'è anche una mappa delle vetrine creatore selezionata dalla creatura del centro potrai comunque continuare a giocare in gruppi privati utilizzando la console del portale di matchmaking per la mappa delle vetrine creatore Indicatore giocatore Grazie al pubblico indicatore giocatore puoi creare un indicatore che mostri informazioni aggiuntive nella taglia di un giocatore in particolare la salute, lo scudo, le risorse e la distanza sull'isola Puoi anche aggiungere un'icona e un testo personalizzato all'indicatore I indicatori sono visibili sia sulla mappa principale sia sulla minimappa Nota, l'indicatore giocatore non è visibile a meno che il giocatore non abbia una targa Se le informazioni aggiuntive non sono visibili durante il collaudo dell'isola a sicurezza che deve avere tutte le targhe Per farlo vai in la mia isola, impostazioni e scuro verso il basso fino alla voce mostra sempre targhe Imposta su mostra sempre tutti o mostra sempre alla squadra Oggetto di battaglia reale, fucile pressante prime Il fucile pressante prime è un'arma unica che ricompensa i giocatori che li caricano assolutamente infliggendo danni bonus quando sparano con il caricatore pieno Continua a ricaricare il primo corpo per massimizzare il danno Nuove gallerie oggetti Con la nuova galleria cascata potrai aggiungere le cascate alle tue isole Inoltre le gallerie oggetti albero e coccolose ti permette di creare un'interessante aria a tema squadra delle coccole Galleria cascata Galleria cascata Le cascate sono arrivate, disponi di una selezione di cascate di forme e dimensioni diverse da posizionare sulle isole Galleria oggetti albero e coccolose Trasforma l'isole nel paradiso della squadra delle coccole con l'albero coccoloso Modifiche in interfaccia utente e altre funzionalità Il progettivo tracettore supporta ora nuove icone, incarichi e opzioni cromatiche Anche gli obiettivi mostrati in interfaccia vantano un nuovo stile grafico Nel rispetto alla centenia di icone, scegli le immagini perfette per i tuoi incarichi Dando un colore unico per aiutare i giocatori a identificare con facilità Ulteriori aggiornamenti e correzioni Aggiornamenti prefabricati e gallerie Aggiunti risorse esclusivi per la modalità creativa per creare la fortezza deserta Che compende un prefabricato e tre gallerie La prefabricata e fortezza deserta Galleria previamente scale fortezza deserta Galleria muro fortezza deserta Galleria oggetti fortezza deserta Aggiunta la galleria cascata Aggiunta la galleria albero coccoloso Aggiornamenti dispositivo O è possibile utilizzare la barra di ricerca nel selettore colore e nel raccoglitore di icone Per cercare un colore o un'icona per nome Eventuali colore senza nome sono associati ai rispettivi codici esadecimali La leveria delle icone è stata ampliata con 284 icone aggiuntive Queste potranno essere utilizzate con i seguenti dispositivi Dispositivo Incomy Dispositivo Generatore di Palle Dispositivo Segnalatore Dispositivo Aria di Cattura Ordigno Dispositivo Indicatore Mappa Galleria oggetti obiettivo Dispositivo Contatore oggetti Dispositivo Indicatore giocatore Dispositivo Cacciatore E' stata aggiunta la nuova opzione Non rimuovere agli dispositivi generatore e creatura e posizionatore e creature Attivando questa opzione le creature non verranno rimosse quando si romantano troppo dal dispositivo Correzzioni pubblicate gallerie Risolto un problema per cui non era possibile posizionare risorse singole della galleria montagne iridescenti della galleria aperta Risolto un problema per cui alcune soste della galleria sport non mostravano effetti visibili quando distrutte e corrette alcuni errori testuali e rifugi nell'interfaccia utente nella modalità creativa Correzzioni dispositivi Risolto un problema per chi spendeva i giocatori attraverso l'ispositivo di manipolazione oggetti quando ci fosse persone nelle vicinanze Risolto un problema per chi esettava il canale dell'ispositivo pulsante Risolto un problema per cui il produttivo di produttore video non funzionava in determinate situazioni Risolto un problema per il problema di memoria dei generatori oggetti Risolto un problema per chi impendeva i giocatori di posizionare i veicoli all'interno del produttivo volume della volta celeste Risolto un problema per cui il dispositivo falò si estingueva senza avere ricevuto alcun segnale Ultima news di oggi BR versione 21.30 Ficili pesanti prime più facilmente per aggiornamento versione 21.30 della battaglia reale di Fortnite Ficili pesanti prime più facilmente per l'estate in arrivo 18.7 domenica 22 Da il team di Fortnite E' arrivato al aggiornamento della battaglia reale di Fortnite versione 1.30 Il che significa che i festimenti presenti di quest'anno sono in arrivo Continua a seguirci nei prossimi giorni per avere più informazioni Ma già che sei in vena di prepararti, preparati ora con il nuovo fucile pesanti prime Fucile pesanti prime Si va in scena Con uno fucile pesanti prime infatti più danni con il primo colpo del caricatore senza bisogno di riscaldamento Anche se non sono potenti come il primo, gli altri tre colpi mantengono i danni costanti Ovviamente puoi controllare quanti colpi rimangono con il contrattore di munizione sullo schermo Ma puoi tenere nelle tracce anche con gli indicatori luminosi del fucile Puoi mettere solo colpi devastanti Puoi caricare dopo il primo colpo Se invece si servono colpi rapidi a seguire le altre tre cartucce sono a tutta disposizione Puoi tenere fucile pesanti prime a terra Nelle forze nelle cose nelle rifornimenti dagli arbusti della realtà e dagli squali Arrivano i festimenti per l'estate Non vedi ancora le feste d'estate nel gioco? Nulla di che ordinare Nulla di che Ordinarli L'amministrazione I festeggiamenti Pensate che quest'anno arriveranno tra qualche giorno Continua a seguirci questa settimana Arrivare più E fare un'abilità sui festeggiamenti Chissà cosa faranno Perchè sicuramente voglio Perchè lo girò La news E girò dopo Per vedersi Perchè se è bello o se è brutto Se invece è bello o se è brutto Non entro Perchè Se è bello Deve essere bello Livello super con più stile Abbiamo aggiornato gli stili di livello super in questa sessione Ora puoi selezionare Le stili di finitura di platino Soccoso Lapislazzoli E Avvampato Aurico Insieme alle altre combinazioni Per Malik Heavy Adira Sabina E Cavalca Tempesta Notte sulle competizioni I fossili E le prime Non è inclusi Nelle imprese competitive Ora Arena 0 Costruzioni Allo scuolo supplementare Ad assorbimento Eliminare un giocatore E darà immediatamente uno scuolo supplementare Compli E 50 punti salute Correzione dei bug Il solito problema Il solito problema Il solito problema Il solito problema Per cui le finiture portatili Non generavano nessuna finitura Ma venivano comunque consumate a casa di uno scambio Troppo rapido degli oggetti Durante l'attivazione della finitura portatile Il solito problema Il solito problema Che impediva i giocatori Di utilizzare le tende In risa squadre Il solito problema Su Nintendo Switch Per cui i giocatori Si immobilizzano Dopo la scivolata O dall'arrampicata Il solito problema Perché ripetitava Il mal di tempesta Alla riattivazione Di un compagno Per rischio positive Correzione D'assoluzione rapida Del 12 luglio 2022 Il solito problema Perché ripetitava Le impostazioni A Del giocatore Dei giocatori Il solito problema Perché impediva Il sabbataggio corretto Delle impostazioni Dei giocatori Ok ragazzi Bentornati su questo Eh Ok ragazzi Il video di oggi è finito Come sempre Spero questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Mi è raccommodo Un bel Mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Seguitevi su Instagram Che ho c'è la cd 17-y Officiale Ragazzi Mucine E' la vostra cd E' tutto E ragazzoli Ciao Ciao!